A mia dita Lorenzo chiedeva, prima di settembre dovresti visare la vostra, io vai, ma tu so spesi un sindy, quant'altro sei visato io, no? Dai, sì, dai, su, mi ergo e vina, dite, chiedo frati, a lei premi partite anche, ecco, a lei dite sindy, mi raccomandi, Non so, lei Lorenzo che mi sta facendo l'altestino, mi raccomandi su Youtube domani, mi raccomandi su Youtube, su? Youtube, ah, chi ha su Youtube domani, mi ha detto, dite, dite, non so, stati simulati, i roti sono convocati, i roti sono convocati, mercoledì e venerdì, Pena, cambio, residenza, sì, pena, cambio, residenza, pena, cambio, residenza, l'ha già cambiata, boh, così, mercoledì si vede anche a chi è vina, ok, boh, saluti, baci, ciao